Il blitz è scattato nel cuore della mattinata, erano in piena attività le ragazze all'interno di questi casolari, tutte identificate, l'età media 25 anni, provengono dal Sud America, arrivano qui facendo scalo in Spagna, poi a Roma e dalla capitale in Puglia. Siamo su una delle complanari della provinciale 231 in territorio di Terlizzi, gli agenti della polizia locale in collaborazione con i tecnici dell'ASL di Bari hanno apposto i sigilli a tutto, un sequestro d'iniziativa, come si dice in gergo tecnico, gli immobili sono ora a disposizione dalla procura di Trani, precari le condizioni igienico-sanitarie all'interno. In queste casupole non vi è acqua, non vi è energia elettrica, non vi è nulla di nulla, c'è soltanto un giaciglio e basta. Gli agenti dovranno risalire ora ai proprietari dei manufatti, così come all'organizzazione che gestisce l'arrivo delle ragazze in Italia, quasi certamente vittime di una tratta. Sono soggetti sia di sesso maschile che di sesso femminile che mettono a disposizione queste casupole di queste ragazze che sicuramente fanno parte di un'organizzazione perché è impensabile che delle ragazze da sole, dal Venezuela, dalla Colombia e dalla Repubblica Domenicana raggiungano il territorio di Terlizzi di loro iniziativa.